Che punto sono i lavori di Piazza Garaffello? Sono bloccati? Si va avanti? Che notizie può darci? Si va avanti con tutti i tempi tecnici che sono necessari per evitare di fare interventi inutili, peggio ancora dannosi e pericolosi e stiamo sollecitando ancora una volta i privati che la smettono di tenere cadenti immobili loro proprietà.